Avrebbero percepito una quota pensionistica integrativa dall'Inps per oltre un anno, quota che non gli spettava e l'accusa per cinque professori che prima di andare in pensione facevano parte dello SNALS, Sindacato Nazionale Autonomo Scuola. Nell'ultimo anno lavorativo, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Ragusa, avrebbero dichiarato di aver ricevuto indenità aggiuntive e che le quote sarebbero state versate in contanti dal sindacato. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,2 milioni di euro agli insegnanti. Le fiamme gialle, dopo diversi controlli sulla documentazione acquisita dagli istituti bancari e avvalendosi della preziosa collaborazione dell'Inps, sono riusciti ad accertare il reato. Ad avvalorare le ipotesi investigative sono state le dichiarazioni degli indagati, secondo i quali le notevoli indennità aggiuntive percepite nell'ultimo anno lavorativo sarebbero state versate in contanti dal sindacato e quindi non rintracciabili. A riguardo non solo lo SNAS non ha una propria giacenza di cassa, ma una parte significativa delle presunte indennità aggiuntive sarebbe stata versata ai futuri pensionati in contanti e nel giorno di ferragosto.